Come fai a convincerli tu? Che invece gli obiettivi si raggiungono con la costanza e la determinazione. Con piccoli passi, che di solito per noi è questo che cerchiamo di convincere, che non sono tre buone decisioni prese nella vita che ti risolvono i problemi, ma tante volte è solo una piccola decisione tutti i giorni che fa la differenza sul lungo periodo. Quindi come lo possiamo spiegare? È difficilissimo perché come tutti vogliono cambiare la sfera personale, sono insoddisfatti del lavoro, della vita familiare, di tutto e vogliono cambiare da un giorno all'altro e non capiscono come sono arrivati lì, allo stesso tempo è uguale in ambito finanziario e soprattutto vanno alla ricerca della scorciatoia pensando che sia l'investimento che risolva il problema. Prima devi avere dei risparmi da investire, quindi se hai 100 euro da parte non importa quanto rendono questi 100 euro, l'obiettivo è averne altri 100. Sicuro. Ma guarda, si dice che chi si convince da solo si convince prima e meglio e quindi io tendenzialmente cerco di analizzare quelle che sono state le strategie del passato delle persone e di far prendere consapevolezza alla persona stessa che attraverso quegli strumenti e quelle strategie in realtà sono stati più che, più che altro, dei fuochi di paglia magari, i tentativi di cambiamento eccetera eccetera. L'idea è proprio quella di far sì che sia la persona stessa poi a esplicitare questa consapevolezza e poi si cerca, vabbè, un po' attraverso l'esempio, cerco di far capire che c'è il tema della costanza, che la grinta vale il doppio del talento, che la costanza vale il doppio della motivazione eccetera eccetera e poi magari sai, si inizia a dire, vabbè, se tu non te la senti di abbracciare a 360 gradi questa filosofia magari inizia a farla, su un piccolo ambito della tua vita, no? Quindi ancora ragionando in ottica un per cento magari, no? Tu puoi dire, continua se vuoi a fare un po' questi tentativi finché non ti convinci a furia di picchiare, no? Il muso contro il muro. Però parallelamente proviamo anche a fare una piccola roba più graduale, no? Quindi a investire gradualmente il tuo tempo, le tue energie, ogni giorno di un piccolo sforzo. In questo modo, facendolo, la persona tendenzialmente si rende conto che quando tu cerchi di cambiare da zero a cento una situazione, vai incontro a quello che è il processo omeostatico, no? Cioè a una forza uguale e contraria che ti riporta al punto di partenza, paradossalmente. Mentre invece tu riesci ad aggirare le resistenze al cambiamento nella misura in cui, poco alla volta, cerchi di introdurre una novità. E questo, insomma, sono un po' alcuni punti cardinali da prendere in considerazione.